Ciao cari amici, come probabilmente molti di voi già lo sanno, qualche giorno fa c'è stato un importante scambio di prigionieri tra l'Ucraina e la Russia, uno scambio che ha portato alla liberazione e ritorno a casa di molti uomini che hanno partecipato alle ostilità, hanno partecipato alle operazioni militari sul territorio del Donbass, attualmente si tratta del territorio russo, una volta era territorio ucraino, noi lo chiamiamo, possiamo chiamare attuale Repubbliche della Russia oppure ex Donbass ucraino, lì in prima linea come sapete va avanti la guerra, è normale che durante la guerra ci sono situazioni quando i militari sia da una parte che dall'altra finiscono in prigionia, bisogna dire che ultimamente molti cittadini ucraini si arrendono ai russi, c'è un proprio fenomeno diffuso soprattutto tra i militari che vengono reclutati contro la loro volontà, che non vuole combattere, chi non vede se stesso come un difensore dei valori di Zelensky, degli oligarchi occidentali, quelli che preferiscono una volta finiti in prima linea alzare le mani e andare verso i russi chiedendo di essere salvati da questo matatoio. Bisogna dire che qua si tratta di persone ai quali manca la motivazione per la guerra ovviamente, mentre dall'altro canto ci sono molti prigionieri che i russi hanno preso durante la battaglia di Mariupol, si tratta ovviamente di nazifascisti dei vari battaglioni nazisti ucraini come Azov e altri simili. Loro vengono separati da altri prigionieri, molti di loro sono stati già sottoposti a un rigido sistema di giustizia, soprattutto nella Repubblica di Donetsk, bisogna dire che lì queste persone hanno commesso la gran parte dei crimini, si tratta sicuramente di crimini di guerra, si tratta di torture, uccisioni dei civili e molti di loro sono stati già messi in prigionia, io qualche volta sul mio canale Telegram parlo di questo o anche qua su Youtube diverse volte ho raccontato già queste situazioni. Comunque alcuni di questi personaggi ancora ci sono nella prigionia russa e poi ci sono tanti militari, militari ucraini che non facevano parte dei riparti diciamo nazionalistici, però comunque sono sempre di una forza che combatte per gli interessi del nazismo oggi e questa gente è stata scambiata con i militari russi. Questo scambio è stato organizzato grazie alla partecipazione molto attiva degli Emirati Arabi Uniti, le trattative tra delegazione russa e delegazione ucraina sono svolti sul territorio degli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, ci sono stati organizzati diversi colloqui segreti, bisogna dire che sono arrivati a un buon punto, ovviamente la parte ucraina ha accettato diciamo le regole posti dai russi, qua bisogna dire che gli ucraini avevano tutto interesse di fare questa specie di scambio di prigionieri per due motivi, uno perché l'Ucraina è in difficoltà, in difficoltà economica e qualsiasi peso sul bilancio ucraino è molto evidente, loro fanno fatico ormai a pagare addirittura gli stipendi a funzionari governativi, loro hanno annunciato che senza aiuti statunitensi che abbonatamente arrivavano in Ucraina nei due anni precedenti e che sono diminuiti come ben sapete tutti quest'anno, la fine dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno, loro si trovano in difficoltà e lo dicono apertamente, ci sono diversi politici ucraini, anche un alto funzionario del ministero del tesoro ucraino, di recente ha parlato, ha fatto una discussione davanti al Parlamento e poi ha parlato anche con giornalisti spiegando che in pratica l'Ucraina non è più in grado di pagare stipendi e mantenere diciamo stessi livelli di welfare che si potevano permettere prima, ovviamente fa ridere quando sentiamo parlare di welfare in Ucraina che non esiste, non ha mai esistito nessun tipo di welfare che può essere almeno avvicinato agli standard occidentali ovviamente, però avevano comunque un loro sistema di ritribuzione, pagavano le pensioni, pagavano i stipendi misere ma comunque stipendi agli insegnanti e agli altri funzionari statali. Adesso tutto questo loro non potranno fare come ha annunciato la rappresentante del ministero del tesoro proprio perché sono diminuiti i soldi da parte dell'Occidente, da parte delle Stati Uniti d'America. Quando io precedentemente parlavo del fatto che l'Ucraina è un paese collassato io intendevo proprio questo, un paese non è in grado di mantenere se stesso, un paese non è di grado di mantenere una struttura statale che serve a qualsiasi paese che vuole essere indipendente. Quando si parla dell'indipendenza si presuppone che c'è una struttura statale che organizza un certo livello di vita, garantisce un certo livello di benessere ai propri cittadini e ovviamente questa struttura statale viene sostenuta dalla gran parte dei cittadini proprio perché il funzionamento di questa struttura garantisce a questi cittadini un livello di vita accettabile e desiderato al quale ambiscono molti. In Ucraina tutto questo non c'è, non esiste, è stato eliminato, cancellato. In Ucraina esiste adesso un regime, un regime militare, un regime nazifascista perché l'idea di questo regime è inerente al nazismo icleriano della seconda guerra mondiale, ci sono le organizzazioni che governano in Ucraina e il presidente Zelensky è un fantoccio di queste organizzazioni, dipende da loro, non può andare contro la loro volontà. Queste organizzazioni sono direttamente legati a fenomeni come una UNSO, UPA e altre organizzazioni naziste ucraine risalenti ai tempi del collaborazionismo ucraino con la Germania nazista, con il terzo Reich di Adolf Hitler. Quindi qua si parla non del neonazismo, qua si parla del nazismo che ha le radici storiche nella Germania nazista e quindi quando si parla del fatto che in Ucraina c'è un regime nazifascista è proprio così che deve essere chiamato questo tipo di regime, non c'è un'altra parola, non è un neonazismo, non è un regime radicale, non è estrema destra e così via, è un regime nazifascista e questo regime ovviamente adesso è in difficoltà, non riesce a mantenere il livello di garanzie sociali che qualsiasi regime nazifascista dovrebbe garantire al popolo. Voi ricordate che ancora quando Adolf Hitler ha creato il terzo Reich il suo grande sostegno da parte del popolo tedesco era dovuto proprio alla capacità dei nazisti di creare delle garanzie sociali. Ovviamente queste garanzie sociali i nazisti all'inizio hanno potuto ampliare e applicare grazie ai soldi delle classi elevati che hanno sostenuto il nazismo nella chiave anticomunista e poi dopo i nazisti hanno applicato e mantenuto queste garanzie sociali grazie alle ricchezze che hanno godagnato derubando le ricchezze da altri paesi, quindi espandendo il proprio potere, sfruttando gli impianti industriali, le risorse dei paesi altrui e questo ha permesso a Hitler di trascinare un po' più avanti nella storia il suo regime che senza questo tipo di propulsione predatoria non sarebbe potuto esistere, sarebbe istinto molto prima dell'inizio della seconda guerra mondiale. L'Ucraina non può fare altrettanto, per quale motivo? Perché l'Ucraina non è la Germania, Zelensky non è Hitler, è troppo ignorante, è un pagliaccio, dietro ci sono gli oligarchi anglosassoni che non sono interessati di trasformare l'Ucraina in un vero e proprio terzo Reich. L'Ucraina è una caricatura, l'idea nazifascista serve solo per tenere incollati insieme tutto un gruppo di persone con idee radicali per i quali è molto importante dedicare la propria vita al danneggiamento della Russia. Loro non amano Ucraina, loro odiano Russia, questo è il senso della loro esistenza. La base del loro nazismo si riassume in questa formula, odiare i russi prima ancora di amare se stessi o la propria nazione. E proprio questo odio viene sfruttato dagli anglosassoni, io tra l'altro questa cosa spiego nel mio libro che vedete dietro alle mie spalle che proprio per questo motivo si chiama La guerra e l'odio, io racconto la storia della nascita di questo fenomeno operando ovviamente dei fatti storici, da tutto quello che da noi in Occidente la storia ufficiale gestita attraverso un severo prisma di propaganda anglosassoni non ci racconto. La gran parte dei cittadini europei, dell'Europa occidentale io intendo, con i quali io ho potuto comunicare, anche professori, persone che si occupano della storia professionalmente, ad esempio non ho mai sentito dell'esistenza dei campi di concentramento come Taller, Goff, dove sono stati sterminati durante la prima guerra mondiale tantissimi russi, o ad esempio Teresin, un altro campo di concentramento dove sono stati massacrati tantissimi russi, sempre per gli interessi delle anglosassoni, per gli interessi dei poteri occidentali. Tutto questo fa parte di storia che qua in Occidente non raccontano alle persone, storia nascosta, perché ovviamente la gran parte delle occidentali deve pigarsi di fronte alle anglosassoni come di fronte ai grandi difensori della democrazia, giusti, unico popolo che sa cosa fare, popolo benedetto da Dio e ovviamente come tutti i popoli che credono di essere benedetti da Dio e credono di avere più diritto degli altri di intervenire nella storia, come vediamo adesso ad esempio avvenire tra Israele e Palestina, dove israeliani o meglio dire sionisti credono di essere prescelti di Dio e quindi non si fermano di fronte a niente perché credono che a loro è permesso qualsiasi cosa. La stessa cosa ovviamente se la sentono anche anglosassoni, per questo motivo nella loro idea l'Ucraina può essere completamente sacrificata nel fuoco della guerra, loro non sono interessati di mantenere la struttura, far investire in questo paese, realmente trasformare questo paese in un paese fiorente. Per loro l'Ucraina è un luogo di battaglia, un Armageddon contro la Russia. Se brucia tutto e moriranno tutti in questa guerra, pazienza, ci metteranno la grande pietra e poi racconteranno delle storielle nella loro propaganda, di come loro aiutavano a coraggiosi, orgogliosi ucraini a difendere la loro indipendenza. Insomma, il senso quindi di ciò che sta avvenendo in Ucraina è che l'Ucraina si trova oggi in grave difficoltà economica. Questa difficoltà economica ovviamente agli ucraini non permette di mantenere tutti quei prigionieri russi che hanno, non hanno tantissimi però hanno qualcuno e anche il loro stesso apparato sia bellico che civile è molto costoso. Noi vediamo come in Ucraina ci sono tantissimi cittadini che vengono catturati, sequestrati per strada, dei commissari di riclutamento di Silensky, vengono mandati 448 in prima linea a combattere e morire per causa anglosassone. Tra l'altro ci sono diversi video, io alcuni condivido sul mio canale privato Telegram, se siete curiosi vi invito come sempre di abbonarvi al canale, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Io di recente ho pubblicato un video di un signore ucraino che tra l'altro ha una patologia molto grave ai problemi sul sistema gastrointestinale che non sono problemi risolvibili dal punto di vista di intervento, è una situazione che lui trascina per tutta la vita, ha delle ulcere aperte che sanguinano, quindi questa persona dovrebbe ricevere aiuti farmacologici, dovrebbe essere curato, invece lui finito in prima linea contro la sua volontà. Per fortuna lui e i suoi compagni che sono simili, con le storie simili, persone catturati per strada contro la loro volontà con la forza, mandati in prima linea, hanno deciso di andare dai russi a rendersi e quindi da questo video si capisce e si comprende la realtà attuale di ciò che sta avvenendo all'interno dell'Ucraina dal punto di vista di arruolamento. Proprio per questo motivo l'impianto civile in Ucraina viene messo sempre di più da parte, i civili vengono visti solo e soltanto come una risorsa per la guerra e ovviamente per questo motivo gli ucraini cercano di disfarsi dai prigionieri e di far ritornare i loro militari indietro perché loro sono in gravi difficoltà. Come recente hanno affermato anche diversi esperti militari, di recente ha parlato di questo anche un generale tedesco in un suo articolo che io ho sempre condiviso, ho tradotto, ho condiviso sul mio canale privato Telegram. Il problema principale è che in Ucraina non sono rimasti quasi più i militari esperti, quelli che combattono in prima linea, la gran parte di loro non sono militari esperti ma sono persone arruolati contro la loro volontà. Quei 200 mila militari dei quali era composto l'esercito ucraino addestrato dalla Nato e aveva quel nucleo di professionalità è stato quasi completamente distrutto dai russi, non ci sono più vivi queste persone. Quindi questa è la tragedia ovviamente. Per cui per gli ucraini è molto importante far tornare indietro dalla prigionia russa i loro prigionieri. Per questo motivo gli ucraini hanno accettato tutte le condizioni dei russi che bisogna dire sono stati abbastanza svantaggiati. In questo senso gli ucraini non hanno avuto nessuna scelta, hanno dovuto accettare queste condizioni pur di disfarsi dei prigionieri russi e riportare indietro i propri militari che bene o male sono esperti e potranno magari adesso ritornare di nuovo in prima linea. Io sono sicuro al 100% che così sarà, che tutti i militari che sono tornati adesso in Ucraina, a tempo di magari un mesetto li faranno un po' riprendersi e poi dopo li manderanno di nuovo a combattere. La cosa comunque interessante che è immersa da questo scambio di prigionieri è una particolarità che mi ha incuriosito e in qualche modo ha sollevato parecchie riflessioni che io volevo condividere con voi. Magari qualcuno di voi conosce, probabilmente sì, molti di voi conoscono il sito online che si chiama Miratvorec, è un sito funzionale online creato sulla piattaforma ucraina e gestito da servizi segreti ucraini. Il suo creatore si chiama Anton Geraschenko. Anton Geraschenko è un politico ucraino nazista, una persona che ha fatto parte dei servizi ucraini, come sapete uno che entra nei servizi in un modo o nell'altro rimane legato al resto della vita. In effetti questo sito hanno chiamato una kill list, cioè una lista per gli omicidi che nazisti ucraini, nazionalisti ucraini, vari estremisti ucraini usano per attaccare le persone che il regime ucraino definisce nemici. Tra l'altro anch'io ci sono su questa lista ovviamente, ci sono molti italiani, c'è stato Andy Rocchelli, nostro giornalista italiano che è stato massacrato dagli ucraini. C'è stato il mio amico Oles Busina, grandissimo antropologo, scienziato, storico, giornalista, scrittore ucraino, antifascista che è stato ucciso sotto casa sua da due nazisti ucraini. Ho già parlato a voi diverse volte di questa storia, tra l'altro una storia molto particolare, avvolta da ancora oggi da un mistero, dai segreti, perché a questo omicidio sono legati anche nazisti italiani, perché questi due personaggi che hanno ucciso Oles hanno agito come una macchina tragata Italia e quindi c'era qualcuno con loro che proveniva dall'Italia, che aiutava loro in questo terribile omicidio. Il creatore quindi di questo sito internet è Anton Geraschenko, lui è un nazista, una persona completamente legata ai movimenti di nazisti ucraini, ma allo stesso tempo la cosa che me incuriosisce, questa persona è uno dei attivisti del movimento LGBT in Ucraina, cioè è un omosessuale. Io non riesco a comprendere come fa un omosessuale a parlare dei diritti, dei valori di LGBT che a prova contraria, almeno qua in occidente, loro cercano di presentare se stessi come pacifisti, come contrarie alla guerra. Io non riesco a capire come in Ucraina una persona che fa parte del movimento LGBT può essere allo stesso tempo anche uno nazista. Comunque io da tempo rifletto su queste cose, ma si sa che la propaganda occidentale, i meccanismi di pressione politica, gli strumenti politici occidentali sono molto collegati tra loro, per cui non è difficile vedere magari persone di LGBT sostenere delle cause che aiutano ai nazisti. Ad esempio molti nel mondo LGBT qua in occidente hanno sostenuto nazismo ucraino contro i civili del Donbass, hanno sostenuto i massacri dei civili del Donbass e invece sono messi contro alle decisioni del governo russo di intervenire per salvare i civili del Donbass dal massacro. Questo è uno dei tanti elementi che ci fa ragionare su vari movimenti, su vari strumenti politici che l'Occidente applica altrove, soprattutto fuori dal proprio territorio e che si rappresentano veramente ambigui e contradditori. Però la cosa interessante è che durante questo scambio di prigionieri che è avvenuto, gli ucraini hanno condiviso ovviamente tantissime foto, tantissime video, video dove ci sono stati molti momenti anche abbastanza per così dire toccanti, dove persone tornavano ovviamente dalla prigionia, abbracciavano i loro cari e la cosa che mi ha fatto veramente pensare, la cosa molto particolare, molto contraddittoria e ambigua, è la foto che ha condiviso il fondatore del sito Miratvorec, sito nel quale viene condivisa informazione e l'invito ai nazisti di ammazzare le persone, quindi un sito, una specie di una lista per gli omicidi. Questo personaggio, omosessuale, ha condiviso la foto mentre lui incontra il suo fidanzato, anche esso omosessuale, che torna dalla prigionia e due si abbracciano, si baciano, c'è una foto molto romantica di loro due che finalmente dopo tanto tempo di lontananza si incontrano, due questi uomini che si amano e la cosa che mi ha fatto riflettere, che è fidanzato di questo nazista Anton Geraschenko, il suo fidanzato che è più giovane, è tutto ricoperto di tatuaggi nazisti, tutto ha anche le mani, anche sulle mani ha delle rune naziste. E io quando guardavo questa foto dicevo, ma scusate, ma perché questo tipo di informazione non viene approfondita nell'Occidente? Perché i giornalisti? Perché vari attivisti LGBT? Perché varie persone che si riempiono la bocca di democrazia, di valori, di libertà, non spiegano per quale motivo i loro sistemi politici che loro rappresentano, perché LGBT è un sistema politico, perché loro non spiegano come mai in Ucraina i nazisti fanno parte di quel sistema lì. Cos'è questa specie di tabù attorno alla comunità LGBT e al suo sostegno al nazismo in Ucraina? A mio avviso è una cosa, è un tema molto interessante su cui riflettere, che va capito, compreso, come mai gli omosessuali in Europa appoggiano i seguaci di Hitler che sterminava gli omosessuali apertamente, perché se voi ricordate gli omosessuali nel Terzo Reich, a parte che metà dei gerarchi nazisti erano di nascosto omosessuali, basti pensare di uno dei fondatori del partito nazista in Germania, Eric Krem, che era nazista e allo stesso tempo accanito omosessuale e pedofilo. Lui amava i ragazzini giovani, spesso minorenni. Io non riesco a capire come mai queste cose non vengono approfondite, perché c'è così tanta ipocrisia nei rappresentanti del movimento LGBT, perché loro non vogliono spiegare alla comunità qua in Occidente come mai il loro movimento in Ucraina, i rappresentanti del loro movimento in Ucraina sono i nazisti e perché loro qua in Occidente spesso sostengono le cause dei nazisti mascherandoli dietro alle cause per bene, cause democratiche, cause di libertà e così via. Quindi questo scambio di prigionieri ha rivelato questo episodio che volevo condividere con voi che secondo me deve essere approfondito, perché sarà una di quelle questioni che l'Europa occidentale si porterà dietro per molti anni e ci metterà molto tempo per comprendere il carattere dei danni che è stato causato proprio da questo tipo di attività politica. Va bene amici, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi invito come sempre di approfondire queste tematiche che io affronto che sono scomode, che sono censurate qua in Occidente, sul mainstream occidentale, italiano in particolare vi invito di approfondirlo sul mio canale privato, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi su YouTube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, si tratta di un libro in cui io cerco di raccontare le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo fenomeno, questa tematica, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.